Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro Monza per affrontare il ritorno di Coppa Italia col Frosinone che la scorsa volta ci ha messo parecchio in difficoltà Allora, vediamo che si può fare Santi Cazorla, mettiamo Auschik che sta più in forma Muriba va bene La squadra c'è Mimmo sta un po' così Mettiamo magari Medina e Fruit che così riposa anche Schubert E andiamo al calcio d'inizio Purtroppo ci tocca giocare con Pinamonti prima punta E il che non è che proprio io sia felicissimo Però dai ragazzi col Frosinone Col Frosinone ragazzi non si può non passare Su, siamo in Monza Su via Su via Allora Si parte Si parte Z Per Ross Moriba García Bravo Medina Cigarini Ancora Ross Con calma Costruiamo Cigarini Eric Medina Moriba Moriba Pinamonti Per Chong Al centro Ah Wirz viene anticipato E la palla va in calcio d'angolo Purtroppo Moriba Per Cigarini Per Cigarini di testa Che Che c'era eh C'era C'era Abbastanza Devo essere sincero Lui che non è che proprio sia un esperto Dei colpi di testa Però Si è fatto valere Cigarini Wirz Pinamonti Chong Ah Ah Bravissimo Cigarini Che sta giocando una partita meravigliosa Al momento Anche se è poi iniziata Però Già si è visto Il suo apporto Bravo Z Fruit Ancora per Z Che prova discesa Ma sbaglia tutto Mamma mia Che intervento Che intervento Mamma mia Non so chi fosse Però Ha fatto un intervento Che ci ha salvato la partita Praticamente Chong Pina Monti Moriba Bravissimo Chong Ancora lui Pina Monti Pina Monti Segna L'1-0 Pina Monti Così Oh Finalmente Ha fatto un gol Finalmente Ha fatto un gol Io Sono abbastanza Sorpreso Bravo Chong Qui L'ha controllata Molto bene Finta E il portiere Rimane Abbastanza Spiazzato Bene Un a zero Che ci dà Un po' più di Di sicurezza Al momento Anche perché Insomma Moriba Chong Pina Monti Ancora Pina Monti Niente Non ci arriva Peccato Era messi Benissimo La squadra Era messa Molto bene Attenti 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 alle aperture Bravo Medina Fallo Sembrava un po' Un contrasto Di gioco Però L'arbitro Fisca il fallo Attenzione Al Frosinone Mamma mia La palla Sfila via E va In rimessa Dal fondo Quindi Bene così Pericolo Sventato Z No Auschik No No Cosa fai Amico mio Che stai a fa' Bravissimi Auschik Per Cigarini Che palla Cigarini C'è Moriba Che si muove Molto bene Ma Cigarini Fa un Fa un passaggio Aiuto Inguardabile Inguardabile Bruttissimo Cigà Che Che Dai Non si può Fa' così Mamma mia Mamma mia E fa gol Il Frosinone E fa gol Lui Proprio La squadra Avversaria Che palle Che palle Con questo risultato Saremo fuori Perché loro hanno i gol Hanno i gol In trasferta Ma Cigarini Però Eh Su Per favore Qua si dorme Un po' troppo Dai ragazzi Su Su Si può fare No Non è che Siamo in una partita Così difficile Basta impegnarsi Un attimo Aushik Z Aushik Moriba Pidamonti Non capisce Una fava Ah Fallo di Moriba Eh la vedo male La vedo molto male Sinceramente Moriba 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 Bravo Moriba Per me di Cigarini Sei troppo lento Ciga Ciga Troppo lento Che Che è successo Cigarini Lentissimo Non so Cos'è Se è successo Bravo Cigarini Oh Chong Chong Vede Pidamonti Vede Pidamonti Eh però Wirth Non ci va Aushik Però si Aushik Però Si Però Non tira Non tira Devi tirare Aushik Se no Avevo dura Bravo Erik Ho detto bravo Ma Era meglio Stavo zitto Bravissimo Ross Bravi ragazzi Bravo Pidamonti Chong Per Pidamonti 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 Si però Pidamonti Tutto bello Tutto bene Però il tiro Eh il tiro È la cosa più importante Bello però Questa Bella questa percussione Però Bisogna far gol Nel calcio Conta quello Moriba Medina Chong Pidamonti Ancora lui Ancora Pidamonti Ancora Pidamonti Wirz Oh Mamma mia Wirz Segna Il momentaneo Vantaggio Del Monza 2 a 1 Pidamonti Comunque Oggi Sta giocando bene Sta giocando bene Non posso dire niente Oggi stranamente Pidamonti C'è Non so cos'è Sia successo Ma Pidamonti C'è No Z Z Z va vuoto Bravissimi Moriba Moriba Vacci tu però Beh Fortuna che era lì Moriba Almeno quello L'ha preso Pidamonti Per Chong Per Moriba 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 Aushik 3 a 1 3 a 1 Aushik Segna La rete Che dovrebbe portare Molta più sicurezza Alla squadra Perché ormai ci siamo Ormai ci siamo La squadra gioca bene 3 a 1 Per noi Non possiamo chiedergli meglio Ogni cosa L'andata Che non mi è piaciuta Moriba Per Chong Che però dorme Chong Non dormire Su Ragazzi Cos'è La difesa Io non ho parole Ma la difesa dov'è Domanda Importantissima Perché Cioè Ragazzi Stiamo scherzando Spero Cioè Io non ho parole Maiello Bravo Eric Però rega 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 Porca Rega Dai Da Ardemagni Su Ardemagni Ma cos'è sta roba Eric Garcia Lì nessuno ci va Rosso dorme Io non so cosa dire Stiamo facendo schifo In fase Difensiva Fortuna che la fase Offensiva Sta andando molto bene Perché la fase Difensiva Non ci siamo Non ci siamo E si riapre la partita Perché ora col pareggio Passerebbe il Frosinone Porca miseria Porca Moriba Medina Ross Cigarini Ancora Ancora Z Bravo Z Wirtz Bravi Ancora Pinamonti Pinamonti ci prova Ma il portiere c'è Il portiere c'è Nooo Perché quello era fermo Era Wirtz Era la fermo Immobile Bravo Fructel Moriba Chong Per Pinamonti Wirtz Pinamonti 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 Ah Esce di poco Esce di poco Esce di poco Questa palla Bravo Oshik Bravissimi Moriba Per Oshik Cigarini Pinamonti Wirtz Per Oshik Che non ci arriva Per un pelo Ma c'è ancora Z C'è ancora Wirtz Ancora Z Pinamonti Mamma mia Mamma mia Che azione Spettacolare Pinamonti Doppietta Di Pinamonti Doppietta E se fa doppietta anche lui E allora Allora vale tutto Ma Wirtz che palla Ha dato A Z E Z Che palla A Pinamonti Parliamoci chiaro Grandissimi ragazzi Bella azione Bella azione veramente Oh Così mi piace Quando giochiamo così Non come all'andata Che Ancora Pinamonti Che oggi sembra On fire Pinamonti On fire Oggi Attenzione Vuole la conferma Non vuole essere venduto Wirtz Bravissimo No Pinamonti Cigarini Per Moriba Moriba Che botta Botta tremenda Di Moriba Che Io ho visto Per un attimo Ho visto dentro Poi In realtà Era fuori Di abbastanza Mi sa Tra l'altro Bravissimo Moriba Ripartiamo Moriba Moriba Vede Pinamonti Ma fa Un passaggio Brutto Bravo Eric Garcia Ma Wirtz Dorme Aushik Dorme Anche lui Ragazzi Allora Un po' di Bisogna svegliarsi Qua Bravo Ross Bravissimi Dai Fallo C'è vantaggio C'è vantaggio Sì però Chong Dorme Anche lui Aiuto Ragazzi Aiuto Squad Adormentati Dormono tutti Esci Esci Non era per lui Non era per lui Ma era per Aushik Ma Siamo saldi Diciamo Wirtz Ancora Wirtz Da solo Per chi non lo so C'è Chong Vabbè Si Chong Sta a fare una roba Fuori da ogni logica Aushik Moriba Chong Ancora lui Di precisione Ha tentato Il L'angolino alto Il 7 Qui c'era tutto Giallo Comunque Si Direi che c'era tutto Assolutamente Si Urribarri Che bel nome Nostra Nostra No Aushik No Bravissimo Medina Moriba Eh vabbè Moriba Niente da fare Mamma mia Ragazzi Però Abbiamo questa fase Difensiva Che è veramente Imbarazzante Io non capisco Perché siamo così Scarsi In fase difensiva E' la domanda Che mi sto facendo Io Ma solo oggi Eh Di base Non siamo così scarsi Oggi proprio Mamma mia Sto a vedere Le cose Abbastanza Aberranti Se facciamo così Con Con il Manchester Ne pigliamo 8 Ve lo dico Pinamonti Pinamonti Eh Eh C'era C'era Bravo Moriba Ottimo Ancora Cigarini Rauscik 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 Pinamonti Che Fa una roba Inguardabile Ora ti riconosco Pinamonti C'è Mamma mia Che 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 Lezzura Sto Sto controllo Anzi Sto tiro Più che altro Bravo Medina Wirz Sbaglia un gol Fatto Non puoi Non puoi Sbagliare un gol Già fatto Non puoi Non puoi È illegale Su Bravissimi Moriba Per Chong Pinamonti Wirz Vabbè Ora c'è tipo Il prosigione Che sta tipo Cotto Stracotto E Tutto in maniera Molto offensiva E piglia gol 5 a 2 Chong Che segna un gol Che Ha rischiato Di non fare C'è Era più facile Farlo Che sbagliarlo E ha rischiato Di sbagliarlo C'è un passaggio Meraviglioso Chong La controlla così C'è Come cavolo La controlli Sta palla Vabbè Fortuna che poi Il difensore De Frosinoi Si addormenta E noi riusciamo A fare gol Eh No Veramente C'è Imbarazzante No Bellissima Questa cosa qui Peccato che non sia passata Comunque 5 a 2 Ottimo Ottimo risultato E si va Si va avanti Ehm Ruffete Che è Ruffete Vabbè Ma Allen Non vuole venire Sopronome di Alan Re Leone Addirittura Quello una volta Era Ibraimovic Che si chiamava così Il Re Leone Però Vabbè Ruffete Terzino sinistro 24 anni Del Perù Ehm Si Ma anche no Cioè Nel senso Siamo già a posto Ecco Al momento Si lo so Che non viene Malen Lo so Lo so Lo so Che ci devo fa Ehm Proviamo con un altro A sto punto Visto che Malen non viene Proviamo con Boadu Magari Ci casca Ma perché sono già Non sono in trattativa Pinamonti È fallita La trattativa Non l'ha accettato Perché sto gioco È così Ignorante a volte Non capisco il motivo Allora La prossima volta Avremo Manchester Contro Monza Appunto Che sto a dire Più che altro Volevo capire Ehm Come si è ammessi Fase gironi Vediamo un attimo Siamo secondi Ok Dovessimo vincere Col Manchester Ci porteremo Con un largo Vantaggio Proprio su di loro Quindi potrebbe essere Una partita Molto importante Questa Molto determinante Per il nostro percorso In Champions League Quindi ragazzi Noi ci vecchiamo Alla prossima Per oggi è tutto E niente Ciao